eccoci buon pomeriggio buon venerdì 12 luglio l'ho guardato poco fa il giorno per non dire una castroneria anche se sarei stata capace di dirla comunque ma vabbè vi aspetto qua così vi faccio vedere questo pannetto che il gadget di questo weekend mi era piaciuto così tanto ci aveva messo un po ad arrivare in realtà doveva essere gadget di due settimane fa ma ne abbiamo fatta ma adesso è qui l'abbiamo ordinato quando c'era solo sirius il prossimo se vi piace lo facciamo fare con tutti e due magari vestiti d'halloween mi piacerebbe molto il pipistrello pipistrellino vediamo eccovi buon pomeriggio ben arrivati io ero partita con un intento super bellicoso per il live di oggi volevo fare my 12 days la car per tutto l'anno e anche lo yoga degli piccichini ma sono uscita a far la spesa ho fatto un movimento sbagliata e mi sono giocata la schiena ho fatto un movimento sbagliato e mi sono giocata la schiena quindi adesso ho il mio buon cerotto di voltaren addosso non credo che resisterò in piedi più o meno ferma per così tanto e quindi ho deciso che vi faccio vedere solo il pannetto ron sta bene oggi gli ho messo la pomata sull'occhietto e poi deve essere andato a sbattere a qualche parte deve essersi graffiato perché quando sono tornata aveva un occhio grosso così mi sono presa malissimo adesso va meglio è quasi già rientrato siccome non sta fermo un secondo questo piccoletto si infila in qualsiasi pertuggio lui trovi aperto probabilmente è andato a sbattere oppure si è graffiato però insomma direi che sta benone sì 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 stiamo solo cercando una pappa che non gli dia fastidio ma che non sia quella di sirius perché cerca di rubargli in continuazione ma che dire se anche tu elisa mamma mia ho posato per terra la borsa della spesa non è che avessi preso via mezzo magazzino c'è una borsa della spesa normale per mettere dentro del sacchetto delle pappe che avevo preso da un'altra parte risollevo la borsa della spesa e ho sentito quel dolorino che ho detto speriamo di riuscire ad arrivare alla macchina vabbè 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 buon pomeriggio ben arrivati oggi il piccoletto l'ho lasciato di là perché il negozio si arrampica dappertutto quindi bisogna poterlo osservare mentre fa cose mentre si infila ma magari si infila qualcuno dei sacchetti ecco vorrei preservare questa parte so che non vi dispiacerebbe trovare testimonianze del passaggio di ron però insomma ecco mamma mia elisa e quindi non riesco a stare in piedi ferma per molto tempo non riesco a stare seduta nella stessa posizione per molto tempo devo insomma cambiare quindi non riesco a fare il like come avrei voluto vedi speriamo che domani vada meglio adesso poi mi riposo e vediamo di fare qualcosa di un pochino più qualcos'altro magari mi metto un sondaggio così vediamo in realtà abbiamo i prodotti di all and create credo che siano avanzate che ci siano ancora delle fustelle dei reintegri di ieri quindi magari potrei usare qualcosa di quello e poi i tails li facciamo in settimana insomma ci arrangiamo in questo in questo modo qua intanto qui il pannetto per pulire il tavolo che ho fatto fare allora non invento niente perché nel settore craft ce ne sono diversi io mi ero innamorata a suo tempo del pannetto della tailored che però non ero mai riuscita ad avere mi è venuta quest'idea un po di tempo fa ma perché no sarebbe tanto carino io spreco miliardi di salviette per pulire il tavolo quando in realtà potrei usare questo timolz uso nostro finaccio un panno che sembra nostro finaccio noi usiamo questo che rappresenta il nostro sirius che dice che almeno il tavolo sia clean and simple no visto che tutto il resto non mi riesce proprio tanto clean and simple tiffany azzurrino lui e ciccione sul prossimo magari potrei farlo fare per allo quindi sarebbe molto carino e poi uno per natale vediamo vediamo se vi piace innanzitutto perché io adesso sto andando di bla 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 perché a me piace tanto poi magari mi dite che non vi piace e quindi è finita lì ciao patrizia dimmi che non sei ancora al lavoro dai allora facciamo la parte seria di introduzione questo è il gadget di questo weekend è un pannetto in microfibra parte microfibra per asciugare pulire il tavolo oppure da tenere lì perché tanto carino e sarà vostro si genererà in automatico nei carrelli una volta che raggiungerete i 30 euro di ordine quindi ricapitolando gli omaggi che si possono collettare in questo weekend avete questo con 30 euro il tutorial gratuito stampato a con un ordine di almeno un euro con un ordine di almeno 45 la fustellina salva ritagli 50 euro il timbro flower 2 e questo con 30 quindi insomma lavori dalla montagna spero che non si non faccia caldo non dovrebbe insomma in montagna generalmente si sta bene qui ieri si è scatenato un temporale che tuani fulmine saette addios e si sta un filino meglio un collezionato perché non mi piacerebbe che fosse un collezionabile è molto carino mi piace tanto vabbè poi vabbè sono di parte c'è serious ron stamattina si lamentava perché l'ha visto detto io qua non ci sono madre come mai non ci sono è perché non eri ancora arrivato quando l'ho messo insieme questa grafica però mi sembrava una cosa carina quindi insomma è l'omaggio di questo weekend poi se ne avanzano vediamo allora tolto che non posso fare tutte le cose che avrei voluto fare nel live perché ripeto sono un po sciencata con la schiena ho fatto un movimento sbagliato sollevando la borsa della spesa quindi al momento il cerotto di volterain sta ancora facendo affetto quindi vi faccio solo vedere gli stencil li avevo già spoilerati in realtà facendoveli semplicemente vedere qualche giorno fa quando sono arrivati ma li proviamo li trovate in preordine perché stamattina li ho provati tutti prima di metterli prima di farli pubblicare ad elisa voilà e trovate sono dieci trovate gli stencil singoli e trovate il bundle se acquistate il bundle in pratica pagate solo otto dei dieci stencil che sono contenuti in questo bundle sono tutti abbastanza carini alcuni probabilmente vi piaceranno di più di altri ma adesso la clay sposta il pannetto si piega molto 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 lentamente per prendere la taglierina così e della carta liscia potrei anche in realtà usare tutto e senza usare la carta senza tagliarlo ma si usiamo la taglierina lì allora ce ne sarà uno per cui dovrò cercare la colla riposizionabile ma non ho voluto rinunciarci ero un po in dubbio perché ovviamente queste strisce sono molto sottili quindi il rischio di non fare un buon lavoro con lo stencil sono alti se avete la colla riposizionabile è perfetto perché lo adagiate lì e si usa molto più tranquillamente io ho usato un piccolo escamotage per usarlo non sono in ordine quindi adesso io ve li faccio vedere un po così così a caso questo è il piede pool piedi pool piede pool ne faccio un pezzettino qua carta liscia allora per questi stencil ho tenuto la misura del decoro un po più piccola rispetto a quello che avrei fatto normalmente oddio anche gli esagoni e può sono abbastanza piccoli però volevo che questi motivi questi pattern questi pattern scusatemi diventassero fruibili e utili anche per le piccole tag e anche per le atc quindi se vi chiedete come mai è così piccolo per quel motivo lì e secondo me va bene è molto carino allora togliamoci subito il pensiero di questo che è un pochino più difficile allora questo qui quando l'ho provato mi sono detta non è il caso ancora va rimediato va rilavorato ma in realtà se avete la colla riposizionabile va bene però ho trovato un piccolo escamotage per le atc a parte che anche le card non hanno dimensioni insomma di un'autostrada quindi bisogna ragionare i pattern degli stencil di modo che siano fruibili altrimenti diventa complicato però per le atc non ci pensa quasi mai nessuno allora io prendo questo e faccio così non lo faccio in tondo ma seguo il motivo adesso ne faccio un pezzettino giusto per farvelo vedere in realtà vedete fa se poi lo giro di 80 gradi che cosa di 90 gradi più o meno non sarai proprio 90 gradi ma si crea la roba che alla clay piace tanto bisogna strisciarlo seguendo il senso delle diagonali in questo modo è un po' più semplice ok sto cercando di capire da dove prendere la colla riposizionabile perché questo è lo stencil perfetto con cui usare questo strumento il sito da cui lo prendevo prima la colla lo spray riposizionabile non ce l'ha più quindi sono alla ricerca di un nuovo fornitore poi gli chevron gli chevron alla clay piacciono tanto fa tanto scrub booking old style mi piacciono tantissimo poi abbiamo i quadretti di chevron a me piacciono da morire i quadretti sono super generici vanno bene per tutto potete farli in bianco e nero per dare quell'effetto un po' più estrelloso potete colorarli potete sfumarli secondo me si adattano tantissimo questo avevo provato l'avevo provato così ed era anche carino in verticale mi sono va fermato bene io adesso non l'ho fermato perché queste strisce qua non sono sottili come l'altro ma insomma sono sempre abbastanza sottili è bellissimo mi piace da morire poi questo si chiama intrecci e lo facciamo un pezzettino qua tanto giusto per farvelo vedere questo invece è manovrabilissimo nel senso che c'è molta porzione solida dello stencil e quindi in realtà non si fa nessuno non ha bisogno di nessuna accortezza particolare però guardate che bello è stupendo mentre questo e questo un pochino più di attenzione bisogna farlo perché le striscette sono abbastanza mobili questo ve lo faccio vedere tra poco stelline perché non ce l'ho uno stencil per le stelline e le stelline sono un ottimo pattern tag, tc, card ma perché no anche layout sono molto carine poi le famose onde arriveranno che praticamente l'estate non dico che sia già finita ma insomma però io le ho fatte fare lo stesso mi sembravano carine che dite mi sembra che possa andare poi ho i fiocchi di neve nordici questo è molto super easy super classico però secondo me ha sempre su perché poi ho i rombi i rombi sono pattern ci sono plaid praticamente quindi potete capire che su di me esercitano un'attrattiva non indifferente e quindi voglio dire mi prendo un foglio di carta a parte per farvi vedere quello delle stelle, le stelle 2 perché questa era un po' una scommessa non ero sicura che fosse poi in effetti utilizzabile non ero sicura che fosse utilizzabile perché appunto il bordo delle stelle è molto sottile quindi avevo paura che ci fosse un po' lo stesso problema delle candy cane invece si lavora abbastanza tranquillamente guardate io devo avere l'accortezza di fermarlo perché non sono esattamente super delicata quando mi muovo così tanto in realtà non ci serve tutto il pattern però vi faccio vedere questo in realtà meriterebbe se la tena non fosse bloccata con la schiena di essere fatto bicolor fatemi vedere se arrancando un attimo tipo anche solo con il chipped sapphire e un arancio che sono i tre che sono arrivati prima prendiamo un brush e un brush guardate e di questo si potrebbe poi pensare di fare con la stessa logica anche altri disegni poi chipped sapphire spero di non avere le mani sporche non sono pulitissime ma questa era un po' una scommessa perché il bordo delle stelline è sottile quindi temevo poi lo spostamento ma mi son detta proviamo al limite non lo faccio fare si fanno fare i campioni apposta così e prendiamo il wild honey così e poi ci rimettiamo un altro po' di seedless preserve questo anche con le paste materiche se siete attenti nella distribuzione viene molto bene spero di non averlo agitato troppo ma secondo me vedete adesso vediamo se sono stata brava ma direi che sono stata bravissima oh ma è meraviglioso oh mi piace tantissimo ne facciamo altri così eh con questa logica ve lo dico preparatevi è molto bello un bigliettino qui adesso si taglia una tag si taglia una porzione una tc ed è perfetto no no magari due goccine d'acqua ah lo spruzzino è tanto in basso però vediamo se riesco a prendere lo stesso due goccine d'acqua e poi usiamo il pannetto per asciugare anche se forse qui in realtà ci servirebbe proprio l'acqua ho visto una fustella di ore incredibile ma è arrivata quella fustella lì Elisabetta scrivi a problemi magari ci è sfuggito perché su queste fustelle qui non credo che avessimo fatto il trovalo per me però scrivi a problemi perché così lo verifichiamo subito perché ovviamente io in memoria non sono in grado con gli ink di Tommaso vediamo se la clay ne ha uno qui e lo proviamo un attimo credo di sì credo di sì adesso questo è sporco ma lo teniamo un secondo così lo stesso oh mamma ho strappato via tutto doesn't matter un ink perché tu non dunque questo è il lime è uno sparkly ed è quello che avevamo provato vediamo un secondo questo allora fucsia ho trovato questo scusate era uno dei primi in alto e quindi per la schiena era ancora fattibile facciamo la prova ah ma questo è quasi vuoto non spruzza più no no dobbiamo prenderne un altro scusatemi ci serve uno spruzzo pieno perché riempia così adesso very delicately lo liftiamo sì e con questa parte qua non è che la buttiamo si fa stencil stamping eh guardate quello si asciuga ed ha l'effetto super acquerelloso no i timbri tuoi sono in un ordine dopo Alessia perché il tuo ordine è stato fatto dopo che avevamo già ordinato i reintegri di All&Create quindi ovviamente non potevano essere nello stesso ordine quindi arriveranno con una seconda spedizione allora io direi ink di Tommy ok quello lì era perché l'inchiostro non spruzzava bene però questo mi piace molto questo stencil tanto 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 ciao Terelisa come stai? sto provando gli stencil che abbiamo messo in preordine volevo fare il layout di giugno ma come dire ho fatto un movimento sbagliato con la schiena e quindi adesso non si può io intanto sto già sfruttando il mio pannetto l'ho anche sporcato da davanti ma è un pannetto per pulire il tavolo quindi deve essere sporco di colore lui è felice se è sporco di colore ve lo giuro usatelo non tenetelo lì non tenetelo lì in sospeso questo si asciuga adesso ed è quasi perfetto in realtà nonostante ovviamente spruzzando un inchiostro liquido attraverso uno stencil è più facile che il liquido vada sotto lo stencil e quindi ovviamente il disegno non sia particolarmente ben definito in questo caso però invece è venuto molto bene questo mi piace tantissimissimo poi ci sono anche delle macchioline tiffany quindi mi rendono felice lo poso qua e proviamo a fare guardate perché anche questo secondo me questo gli intrecci rende tantissimo in più colori il pannetto hai visto Romina va bene anche per la tua piccolina allora questo è lo stencil in trecci questo si maneggia facilissimamente perché ha molte parti piene quindi non è di difficile gestione come magari l'altro gli altri due ma avete visto che in realtà io non sono particolarmente attenta non lasciate le scatole chiuse ma in generale non lasciate vestiti non messi non lasciate cose non fatte bisogna usarle le cose bisogna farle le cose adesso mettiamo un altro po' di rosa qua cioè rosa questo è fucasia seedless preserve questi sono a parte il seedless preserve che avevo già qua e che è quello che ho usato per provare i colori stamattina provare gli stencil stamattina sono i colori che erano in cima alla scatola dei miei distress perché ripeto mi sono fatta male alla schiena un po' di mal di schiena e quindi sono un po' come dire inchiodata con i movimenti però guardate è bellissimo abbiamo stencilato anche il washing ovviamente allora ne ho fatti fare 10 ne ho fatti campionare 10 sono andati tutti bene e quindi io ve li ho caricati come preordine arriveranno tra una decina 3-4 settimane a seconda delle spedizioni allora sta bene oggi gli ho messo la pomata per gli occhi raccontavo prima che deve essersi poi grattato perché l'ho ritrovato con un occhietto buon fissio ma adesso è già quasi a posto però mi sono un attimo spaventata così madre apprensive dove trovarle adesso questi poi li laviamo dicevo preordine degli stencil ci vorranno un 3-4 settimane potete preordinarli fino a che non arriveranno potrete acquistare il bundle che è l'offerta dedicata a questi stencil che ve ne fa acquistare 10 al prezzo di 8 praticamente poi cos'altro è arrivato oggi dunque ieri è arrivato il reintegro di All&Create oggi sono arrivati sono arrivati due nuovi abbellimenti di Vicky e cos'altro aspettate gli spritz allora diversi degli spritz sono già finiti ma li stiamo riordinando quindi dovete solo avere un pochino di pazienza perché ritornino in spedizione semplicemente perché sono una grandissima novità e quindi ovviamente siamo tutti lì che stiamo rifornendo all'impazzata questi bellissimi colori spray voilà pensate adesso qui mi sta venendo un'idea malatissima il bundle fino a che non arrivano i prodotti dopo lo disattiviamo allora chissà se riesco a riposizionarti e a spruzzarti sopra un po' di spritz perché poi gli stencil hanno tante potenzialità e in realtà spesso e volentieri ci limitiamo ad usarli in un unico modo non so se capita anche a voi io qui ho il colore più simile il worn lipstick perché sapete che la Clea non è riuscita ancora a tenerseli tutti e 12 quindi ovviamente facciamo con quello che ho allora il lifting e lo lasciamo asciugare un secondo intanto questo guardate che meraviglia qui si è mosso poco in realtà perché guardate fa il negativo praticamente raccogliamo il colore che c'è sparso sullo stencil sì certo va anche col bundle sì 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 il pannetto non ha limitazioni in termini di che cosa dovete acquistare quindi vale assolutamente anche con i preordini adesso vediamo questa robina oh ma vabbè vi dico che meraviglioso aspettate che spostiamo questo questo sarà sbirilucicoso sì certo che si possono usare anche col gesso adesso sono un po' in difficoltà nel prenderle queste cose perché sono sotto e mi sono fatta male alla schiena però potete usarle ah no la pasta 3D me l'aveva fatta provare courtesy of Vania Rigoni e quindi non ce l'ho ma domani nel caso mi organizzo non ho niente qua a portata di mano non ho niente che negoziante triste vabbè allora intanto guardate qui che si vede già un pochino come sbiriluccica ma adesso lo tolgo cioè lo sposto scusate lo vedete guardate le goccine che sono arrivate sulle stelline quanto brillano vabbè meraviglioso adoro adorissimo quindi aspettate che guardo se magari qui in superficie ho una pasta un brillo gel chi lo sa fatemi vedere dunque ho il gel di team non ho niente in superficie che posso prendere sono molto triste però si potete usarlo con le paste materiche di la texture paste di scusatemi di team potete usarlo con il gesso di Tommaso potete usarlo con la pasta sabbia lo potete usare con la pasta stencil con la pasta di Vicky con le solar e lunar paste di Simon Harley con qualsiasi cosa che possiate spatolare a seconda del disegno che c'è sullo stencil dovete solo avere l'accortezza di prestare attenzione al tipo di prodotto che ci andate a mettere sopra tanto più è liquidino tanto più è di difficile distribuzione nel senso che il rischio che vada sotto lo stencil è sempre più forte in questo caso per questi due stencil questi qui sono i due più pericolosi il candy cane a cui non ho voluto rinunciare che dà il suo meglio se strisciato e non cioè se io faccio così guardate adesso lo facciamo consci di sprecarlo se io faccio così tutte queste righe si muovono vedete che è venuto tutto fuori mentre se io faccio così io riesco a ottenere un bel disegno e se poi lo giro di 90 gradi ma questa è una fisima mia perdonatemi posso fare oh vabbè io non l'ho fermato quindi mi fermo perché sarà venuta una schifezza però si può fare l'effetto blade le onde in verticale dici non le ho mai provate adesso proviamo gialle però vabbè come greca decorativa potrebbero anche essere delle greche oh sì è molto carino brava non ci avevo pensato ma d'altro canto Antonietta è la persona che ha battuto la maestra e ha sparato la nuvo sul soffitto durante un corso quindi è normale che mi superi in queste cose è molto bello sì è molto bello anche in verticale assolutissimamente sì quindi scusate se oggi sono ero partita col fare 1200 cose volevo fare il solito layout adesso quando faccio il layout dei my 12 days del mese in genere faccio anche la car per tutto l'anno e lo yoga degli appiccichini perché sono cosine abbastanza rapide da fare tutte insieme quindi riesco a gestirle in un unico live oggi ero partita per fare quello poi alla fine con questo mal di schiena non ne ho cavato un ragno dal buco in buona sostanza e quindi e quindi niente va bene così quindi vi ho fatto vedere gli stencil che sono in preordine sono dieci mi sono arrivati i campioni l'altro giorno quindi in realtà li ho provati solo stamattina prima di creare poi il preordine perché non volevo lasciarvi l'ordinale finché non avessi visto che potevano funzionare perché non si sa mai abbiamo il Piedipool abbiamo il Candy Cane gli intrecci lo Chevroni i Quadretti i Fiocchi di Neve Nordici Stelle 1 e Stelle 2 voilà le fustelle iniziamo a smistare gli abbonamenti dalla prossima settimana credo se non lunedì da martedì non abbiamo ancora la Ceralacca la Ceralacca è ferma nel magazzino di UPS circa da 10 giorni non capiamo perché e non mi hanno dato nessun tipo di feedback il fornitore che l'ha spedita dice che a quanto pare uno dei due colli è rimasto indietro però siamo in ritardo su quello però tutto il resto c'è quindi inizieremo a smistare comunque tutto il resto questo è l'ink di Tommaso Tiffany questo è lo Stencil Stamping quindi abbiamo usato il colore che c'era sullo Stencil per timbrare e questo invece è semplicemente una sfumatura di Oxide con un pochino di goccioline d'acqua Rombi allora rifaccio Piedipool Candy Cane Intrecci Chevron Quadretti Stelle 1 Onde Fiocchi di Neve Nordici Rombi 1, 2, 3 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le stelle ci sono allora i reintegri di Waffle Flower chiudo l'ordine questa sera siamo stati ritardati un pochino perché non so se ricordate che mi hanno perso un pacco c'è un ordine di mezzo che manca in cui c'erano alcune fustelle che erano andate in attesa con l'arrivo precedente di Waffle Flower e che erano state spedite ormai più di 10 giorni fa quasi due settimane fa ma il pacco è stato perso ormai penso di poterlo dire perché Waffle Flower non sa dov'è Diachelle non sa dov'è quindi domani reincarrello le cose che ci servono e chiudiamo un altro ordine penso il tempo che gestiscano l'ordine dovrebbero poi arrivare il tutto l'ordine disperso si conferma disperso purtroppo e quindi dobbiamo riordinare tutto e capire come verrà gestito ma non credo che verrà gestito nel senso che una volta che vengono affidate al corriere le spedizioni in realtà non è più responsabilità di nessuno e se il pacco non è assicurato nessuno è tenuto il rimborso di niente purtroppo funziona così quindi riordiniamo cosa vi devo dire fortuna delle fortunelle devo dire che ovviamente quante più spedizioni si gestiscono sia in entrata che in uscita quindi sia ricevendone che spedendone tanto più è probabile che ogni tanto qualche disguido di questo tipo possa accadere perché solo chi non lavora non sbaglia e di solito sono i più criticoni però è ovvio che quando ci perdono un ordine intero per noi diventa un danno sia economico chiaramente che di gestione perché quell'ordine lì doveva essere qua almeno dieci giorni fa quindi vediamo che vi devo dire allora dunque ricapitolando oggi sono arrivati gli spritz alcuni sono già finiti quindi se volete potete comunque ancora prenotarli però dobbiamo aspettare che ritornino ieri sono arrivati i reintegri di All&Create volevo farveli vedere poi ieri però alla fine sono arrivata un po' tardi e non ce l'ho fatta oggi sono arrivati appunto gli spritz e un paio di abbellimenti di Vicky Buten e abbiamo messo in preordine i nuovi stencil ve li avevo spoilerati nel live di qualche giorno fa stamattina li ho provati mi sembrava che andassero tutti bene e quindi ve li ho messi in preordine arriveranno tra 3-4 settimane forse anche prima in realtà perché spesso con gli stencil sono molto più veloci che con le altre lavorazioni di timbre e fustelle avete la possibilità di prenotarli singolarmente quindi uno o due o quelli che vi piacciono oppure potete comprare il bundle il bundle è un'offerta attiva fino all'arrivo dei prodotti dopodiché potrete solo comprarli singolarmente il bundle vi consente di avere tutti i 10 gli stencil pagandone solo 8 intanto vi spoiler un'altra cosa ah vabbè ovviamente gadget del weekend voilà eh Michela sì è per quello che abbiamo aspettato perché poi se mi arriva tutto doppio cioè perché tu hai già capito che sarà quella la fine che farò eh solo che non posso aspettare oltre nel senso che ci sono persone che sono in attesa i cui ordini sono in attesa dei prodotti che sono nel che sono nell'ordine disperso quindi devo necessariamente farli tornare e quindi vabbè vabbè non diciamo niente allora regalino del weekend il pannetto per pulire il tavolo adesso guardate uso quello che che ho già sporcato così questo lo lasciamo in tonso ne ho visti tanti eh poi il mio è già sporco anche davanti ma vorrei vedere se anche il vostro si sporca così in fretta d'altro canto le cose vanno usate pannetto per pulire il tavolo in omaggio in questo weekend con un ordine da 30 euro quindi facilissimamente raggiungibile ci sono ancora tanti preordini attivi quindi insomma ci sono assolutamente tante possibilità di poter eh arrivare a questo traguardo che se raggiungete i 30 euro avete anche il il ehm il flyer in omaggio il tutorial stampato in omaggio poi potete avere sempre la fustella con i 45 euro il timbro il timbro numero 2 con ordini da 50 con le foto ora è un miliardo certo eh vabbè vediamo io credo che non appena mi spediranno l'altro magicamente salterà fuori è successo poco tempo fa anche con un ordine di una cliente che Bartolini ha disperso il collo e non c'è stato verso che lo ritrovassero nel momento in cui noi le abbiamo spedito rifatto l'ordine potrebbero le cose che mancavano spedito l'ordine il cliente lo riceve e magicamente hanno trovato il pacco che di eh lo so Michele guarda chi spedisce tanto e chi riceve tanto è purtroppo colpibile da questo tipo di problematiche purtroppo è proprio un gioco di numeri di statistica ci sta è un gioco di probabilità quindi che vi devo dire quindi ah aspettate che vi spoilerò ancora questa cosina qua la parolina ti penso spesso che magari adesso vi taglio e ve la faccio vedere abbiamo iniziato una serie con le small text questa sarà la seconda anche questa misura di card misura di atc è perfetta tag e questa è la large text dopo tanti auguri mi fai stare bene mi sembra carinissima mi piace molto questa è una carta di Tommaso adesso vi taglio perché non l'ho ancora fatta vedere il ti penso spesso sono fustelline piccine piccine pensate per atc per card piccole togliamo questo nastro che è super fastidioso vediamo un attimo di tagliarlo se ce l'ho in un pezzetto della carta del bottalico vediamo un secondo guardate questa il ti penso spesso è disponibile le altre due sono fustelle che ho fatto campionare e che sono che vanno bene quindi penso che vi metterò in preordine il mi fai stare bene magari domani lo preparo così ve lo dico o lunedì insomma e poi magari il grazie lo facciamo arrivare una fustellina talmente piccola di solito quando sono così piccole ne ordinate veramente tantissimo aspettiamo anche che arrivi tanto sarà veloce non vi preoccupate e sono questi passepartout che vanno bene un po' per tutto assolutamente proviamo il ti penso spesso che alla fine non vi avevo fatto vedere nella versione che avevo fatto correggere perché rispetto al campione che mi avevano mandato avevo fatto fare un paio di correzioni quindi adesso ve la taglio e ve la faccio vedere così vedete è piccina piccola è un font che anche secondo me è bello perché è molto versatile quindi si può usare in tanti contesti a prescindere da eventuali anche altre scritte che possono essere presenti nel lavoro che stiamo facendo è piuttosto è piuttosto versatile quindi secondo me si spende bene su un sacco di cose diverse togliamo anche questa pancina qua vedete è molto molto carino e questo sarà il secondo sono piccine ATC card tag particolari in un album sono tutte quelle fustelline piccole che ci permettono di creare dettagli che poi danno interesse al lavoro che stiamo facendo questa cosa del creare interesse è una roba che dicono sempre gli americani e che mi è sempre piaciuto un sacco allora dunque mi fai stare bene domani magari lo provo e durante il live facciamo apriamo il preordine perché secondo me si fa assolutamente sì è molto bella cioè mi piace molto fa da pannello di card intera è molto versatile anche questa quindi allora non ho pensato in realtà ad ora di fare un abbonamento su queste scrittine per ora le faccio uscire una alla volta non so se avrei il tempo di riuscire a mettere insieme anche queste negli abbonamenti vediamo anche un po' quello che è il successo di queste scrittine il tanti auguri vi è piaciuto tantissimo anche il ti penso spesso devo dire anche se in realtà non l'avevo praticamente ancora mai fatto vedere vediamo magari l'anno prossimo mi organizzo un po' meglio spero di poter mi organizzare un pochino meglio anche con l'aiuto che avremo insomma in negozio magari ho un pochino più di tempo perché sapete che faccio le cose non come i brand seri ma le faccio la sera il weekend la notte e quindi ho paura che se ingaggio altri abbonamenti a parte il procurarmi l'odio perpetuo delle persone che lavoreranno allo smistamento e all'assemblaggio degli abbonamenti ho paura di non riuscire a tenere a tenere il ritmo con le tempistiche che sono necessarie per mandare tutti questi prodotti in produzione Summer Vibes avevo pensato in realtà di farle quasi tutte in italiano perché tendenzialmente sono quelle che vi piacciono di più non so se poi possono piacervi anche in inglese alcune secondo me in inglese rendono molto di più che non in italiano però sapete come la penso io con l'inglese quindi non faccio tanto testo ecco allora quindi novità attività lutico ricreativa del weekend il pannetto di Sirius prossimamente se il pannetto vi piace come regalino come gaggettino lo farò di Halloween con tutti e due i penosetti visto che Ron è arrivato solo sabato scorso inaspettatissimamente e quindi quando ho creato questa grafica qua non c'era ancora neanche nella mente quindi ovviamente questo qui c'è solo Sirius ma su Halloween potremmo cercare di farli comparire tutte e due chi lo sa se vi piace il prodotto se vi piace il regalino altra cosa che trovate sul sito vabbè abbiamo riattivato il project sheet gratuito trovate i reintegri degli spritz prenotabili qualcuno c'è ancora ma ho visto che diversi colori sono già finiti i reintegri di Olin Create che sono arrivati ieri e il preordine degli stencil gli stencil sono i nostri sono dieci sono a me piacciono tutti ma io ovviamente non faccio testo questo è un pochino più difficilino da usare ma abbiamo visto che strisciandolo non è particolarmente difficile ottenere un buon risultato sono in attesa di trovare un'altra colla spray riposizionabile di modo da poterlo usare con lo stencil e se lo fermiamo secondo me questo si fa anche molto molto più facilmente rispetto a come vi ho fatto vedere oggi guardate qui questo è lo spray il aspettate cos'è questo il warm lipstick spruzzato attraverso lo stencil esatto un gatto nero un gatto arancione Silvana quindi sono perfetti per Halloween e poi ne facciamo anche una Natale poi la smetto perché adesso è appena arrivato quindi siamo nella fase di rincoglionimento acuto non si dice questa parola bimbi però rende molto bene il quanto ci siamo rincitrullite dietro a questo piccolino e quindi vabbè questi sono gli stencil piedipull candy cane che viene fatto solo da un lato ovviamente intrecci onde stelle 1 quadretti che sono che sono nordic snowflake e rombi e poi ci sono le stelle due le stelle due credo che mi porteranno a realizzare una serie di stencil fatti così perché mi sembrano perfetti bellissimi pannello della card oppure questa tagliata per fare degli atc è perfetta può essere anche fustellata in piccole tag e comunque il pattern della stella si vede lo stesso e mi sembra veramente bellissimo quindi insomma sono molto soddisfatta questo mi piace veramente molto spero che piacciono anche a voi e li useremo adesso che li abbiamo insomma li useremo per la creazione delle card quando per esempio monto gli animaletti o quando faccio card in generale ho iniziato la linea degli stencil banalmente per avere qualcosa a disposizione che mi consentisse di realizzare di avere le cose basic a disposizione perché poi spesso e volentieri molte delle cose che uso vengono messe tra gli usati e quindi poi non ce le ho più e quindi magari sono senza una cosa adesso mi faccio la mia linea basic quindi più o meno avrò un po' tutto quello che mi serve per realizzare i progetti durante i live io per ora vi lascio qui vi ho fatto vedere il ti penso spesso che non l'avevo ancora mostrato ci vediamo domani magari vi metto un po' sul gruppo per sapere che cosa vi piacerebbe vedere nel live di domani così magari mi organizzo spero che la schiena vada meglio perché stare ferma in piedi nella stessa posizione con questo piccolo stiramento non è facilissimo ma confido che domani andrà molto meglio e che altro credo di avervi detto tutto per oggi quindi vi auguro buon pomeriggio oggi abbiamo fatto presto presto però chiedovenia ho la schiena che mi fa male quindi sto facendo un pochino fatica ho un po' cambiato i piani rispetto a quello che doveva essere il live di oggi so che capirete purtroppo gna faccio stare in piedi ferma così è un po' un po' faticosetto domani spero di essere decisamente più in forma di così poco ci vuole in effetti e basta buono shopping quindi buona serata e a domani ciao 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 ciao